Musica E ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui in questo nuovo video Quest'oggi siamo qui con la beta di Crysis 3 Beh, cosa dire di questo gioco? Insomma, avrò giocato due partite così, tanto per un po' abituarmi al gioco Anche se comunque sono una fetecchia Comunque, insomma, vorrei un po' esprimere la mia su questo gioco Però intanto, innanzitutto, gli avviamo qua una partita E speriamo che non ci trovi qualcosa di già iniziato Eh, siccome ci ha trovato, eh, non possiamo pure uscire Ah, sì No, ci ha fatto entrare Eh, speriamo che non sia iniziata da tanto Perché altrimenti è brutto, ecco, giocare una partita già iniziata Comunque, cosa dire di Crysis? Io l'ho visto sempre con un'ottica di sopravvalutazione Nel senso, un gioco fin troppo sopravvalutato Insomma, è un bel gioco Ci mancherebbe altro È bello, è bello Però comunque è uno di quei giochi che tu ci giochi per un periodo E lo abbandoni Perché Non lo so Allora, è un miscuglio fra vari giochi Ah In poche parole era Ah, ok Cerchiamo ancora In poche parole è un miscuglio fra vari giochi Tipo, non so Halo ha molti esempi anzi di Halo, ad esempio Non possiamo negarlo Poi Vabbè, poi prende un po' da Call of Duty Un po' da Dimmi che non è una partita già iniziata Ti prego È una partita già iniziata Comunque Prende un po' da Call of Duty Un po' da Halo Anzi, molto più da Halo Però comunque È un bel gioco Nonostante Diciamo Le aspirazioni Le espirazioni Anzi Verso questi titoli Però comunque Come detto È un bel gioco Però Mi sembra un po' troppo sopravvalutato Perché Un gioco che è così scopiazzato Verso un altro Boh Secondo me È tutto merito della grafica Quindi Ah, ok Vabbè Iniziata da poco Quindi Ci sta, ci sta Non c'è bisogno che usciamo Ehi Tanto guardate la mia mira Guardate Ok Vabbè Ci nascondiamo Secondo me è andato qui No Qua c'è un amico Boh Se ne è scappato Allora Comunque Ehi L'ho ucciso Ah, forse l'avevo ucciso Non me ne ero accorto Ah no Però ne avevo un altro dietro Eh, ma ho ucciso con un pugno Jack Norris È fra noi E quindi nulla Che è sta roba? Ah, il coso qua Che sembra Una specie di mantis Sta roba qui Ehi, ciao Ecco Muoio prima io Ma perché tutti quanti Vabbè Io non ci penso a quella roba Perché se no muoio sempre E io invece voglio farmi kill Perché Non posso proporre un gameplay In cui Cos'è? Non vedono Ah no Sono le foglie Pensavo che era qualcuno invisibile Ehm Insomma In poche parole Se Crysis Aspetta Qua ce n'è uno invisibile Guardatelo L'ho ucciso con i pugni Wow Comunque Se Se Crysis È così Conosciuto È solo grazie alla grafica Sicuramente Beh ci saranno i fan Assolutamente Per ogni gioco ci sono i fan Anche per qui Quando qui aspettiamo Mi sa che qualcuno Vabbè Non c'ho voglia di andarla a cercare Quindi nulla Ehm E comunque Vabbè Penso di aver detto abbastanza Per quanto riguarda Non so come si lancia la granata Ehi Scappi Ok ti ho ucciso No No Scappiamo noi invece Poi mi voglio mettere qui Non so perché Pensavo che era un posto più coperto Vabbè Non è così coperto Mmm Non so come lanciare proprio la granata Aspetta No Questo qui si fa lo zoom Ok È vero che qui non è Non basta semplicemente schiacciare Devi proprio Eh aspetta Voglio fare tipo No Vorrevo fare tipo Non so Che mi lasciavo la granata Ehm Diciamo Una granata Senza Diciamo la granata pronta da lanciare Così Così mi facevo esplodere Facevo un attacco a kamikaze Però No Non mi pare il caso Ok lanciamolo così Però mi sa che hanno lanciato un po' troppo Ecco infatti Non si sa fatti Non si sa fatti Eh quello lì Quello scuro Oddio Me l'ha lanciato addosso Oddio Vediamo Oddio Wow Vabbè una beta L'arma mezza invisibile Ma Fa nulla Comunque si Sono in ritardo da tre settimane Come ho già detto Percettamente lente Ma comunque Beh Cioè Più che altro Si lo so Sembrava un manico Comunque Più che altro Ok Più che altro comunque Era tanto per esprimere la mia opinione Perché non penso di acquistare questo gioco Ehm Non penso proprio di acquistarlo Perché non mi interessa Mi ricordo che invece Due Si mi era piaciuto molto Poi Vabbè Non mi è interessato più Vabbè Oddio Oddio Sono riuscito ad ucciderlo Bella Poi non mi è interessato più Il due Perché poi sono usciti altri titoli Che mi sono interessati maggiormente Quindi Prima non sono comprato tipo Qualche tempo fa Avete visto pure un gameplay Quando ero influenzato Ehm Insomma Me ne sono pentito Non lo so Non mi è piaciuto Forse anche perché nel computer Tipo La grafica era un po Oddio 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 Che azione Tipo Me la sono camperata qui Ci sono riuscito Ehi Possiamo chiamare un qualcosa tipo Avno Aspettiamo Allora Io qui vedo Ah no E no No Cos'è Ho visto un pezzo rosso Pensavo che era quel veicolo lì E no Meglio correre con l'invisibilità Vediamo se riusciamo ad ucciderlo No perché c'è un mazzone da dietro Infatti Ah Peccato Avevamo due pezzi Due piastrine Potevamo vendere Quella specie di UAB E non ci sono riuscito Vabbè Ho notato dei miglioramenti Rispetto a come giocavo precedentemente A proposito Vediamo quanto stiamo 6 a 4 Ehm Immaginavo peggio Dai Ci sta andando bene Allora Ho visto uno Ah no Ma forse era un compagno Ok Ecco Il brutto ristorata Ehm Che è un po' troppo Fluorescente Diciamo così Amico 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 Quello lì l'ha mancato Invece mi ha mai preso in pieno Comunque disgraziato Comunque 4 minuti e 20 Dai Comunque E' bello E' bello Senz'altro E' un bel po' Aspetta Poi usciamo fuori dalla mappa Ehm E' un bel po' adrenalinico Senz'altro Molto figo Però Non è così Diciamo Secondo me E' uno di quei tanti titoli Che è come Cold Fanno ormai successo Ehi Ah Mi era passato pure questo Gli ho sparato nel culettino Nel culetton Ehm Insomma Fanno successo Semplicemente per il loro titolo Un altro esempio Aloma Quello lì poi comunque è un titolo Che o ti piace O non ti piace Non Ehm Quello lì pure questo E' altra cosa vale Cos'è? Uh Mi son preso Quanto ne so Quanto so questo qui Una ricompensa uccisione Se non sbaglio Ehm Dai ho voglia di Stramassacrare qualcuno Dove siete? Eh Quello lì è troppo lontano Mi faccio individuare Wow Bella lì Meglio prendere la corazza massima Uh Una ricompensa uccisione Ce la siamo presa Ok Distattiviamo pure la corazza Ehm Ok Avviamo L'UAB Chiamiamolo così Radar attivo E non posso saltare più di tanto Purtroppo Comunque dai Ci sta andando abbastanza bene Abbiamo ucciso pure uno Ok No c'è finito Ci sono finiti i colpi Percato E' davvero un Tu muori Ok Ehi Ah Muori No non è morto Quanto vita gli ho lasciato Eh ancora 71 Me lo voglio Ah beh Quanto stiamo? 12 6 Uulala Dovrebbe essere il rapporto M Più 2 più o meno Credo Non lo so Non ne sono Oppure 1,50 Non ne Diciamo non li ho mai capiti i ratio Cioè E sarebbe una percentuale più che altro Però non li ho mai capiti Uh Ah si Più 10 Eh vabbè qua Glielo stavo fattendo a qualcuno Quindi Muori Ok Dead hair Uccisione in aria Ok Muori Muori Ok Bella 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 Questa qui mi è piaciuta Tu muori pure Dove sei? Eh non l'ho preso Che mirada è schifo Vai Diventiamo invisibili Ah poi una cosa che ho notato che è cambiata E' che Tipo Puoi Migrazione host Dai Non ci puoi buttare fuori dalla partita Adesso che sto facendo una bella partita No Ci ha buttati fuori Ah no Ok Ehm Ok Comunque cosa dicevo Perché devo perdere ogni volta Il filo del discorso Grazie Migrazione host Che cavolo è successo? Wow Mi hai fregato alla grande amico Vabbè Ehm Soltiamo Oh Ok Aspetta Solo adesso ho notato che l'arma è verde Come mai Come mai Anche prima era verde oppure Oh è finito No non è finita Cos'è? Perché mi si è blu Ah no è finita Ah è finito per il punteggio Ok ok Di solito queste partite finiscono per colpa Del Del tempo Sì 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 Quartodici sette Beh Un Un Un'attacca Anzi ce la siamo cavata dai Questo qui cosa sono? Sì le mie killcam Ecco Guardate qui Trarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar No, 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 non ci fa vedere tutto il 14 Non credo No, infatti Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Sono pure diventato livello 4 Spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel Me gusta Ok, non togliamo qui Ok, e ci sentiamo con un prossimo video Ciao, ciao Ciao